Nessuna vera frattura tra PD e PDL invece secondo il Movimento 5 Stelle. Sentiamo il deputato grillino Riccardo Nuti. Il classico teatrino che ormai è partito, che probabilmente porterà questo letto abis dove ci sarà qualche scillipoti dei vari gruppi parlamentari e poi il PD. Ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di ripristinare un finto duello, una finta opposizione tra PD e PDL per un po' di tempo affinché poi si faccia una legge elettorale peggiore del Porcellum, diciamo un super Porcellum, per poi eliminare il Movimento 5 Stelle.